Ciao ragazzi, benvenuti. È il tutorial numero 16 di Microsoft Flight Simulator 2020. Oggi voleremo con il Beechcraft Baron 58. A differenza dei tutorial precedenti, che erano quasi tutti con il Cessna 172, il Beechcraft Baron 58 è considerato un aereo complesso. Abbiamo in più il carrello retrattile, abbiamo due motori e abbiamo l'elica che sarà a velocità costante, quindi non a passo fisso come con il Cessna. Effettueremo una partenza da Cold and Dark, quindi vedremo anche tutta la procedura per l'accensione. Effettueremo un decollo, una crociera e un atterraggio. Nello specifico, una volta a bordo, vedremo anche quali sono le differenze e come interpretare le diverse leve che in più ci sono rispetto alla Cessna. Per prima cosa andiamo in mappa del mondo. Io ho già selezionato l'aereo, che è questo qua. Ho già selezionato la rampa 33 dei Bari, Palese Macchi, dopodiché effettueremo un volo verso nord per atterrare una volta terminate le spiegazioni. In volo è raggiunta la quota di crociera di 15.000 piedi. Non ci resta che selezionare vola, come in condizioni di volo io ho selezionato in tempo reale, traffico in tempo reale e senza altri utenti. Ok, siamo a bordo, il tempo non è del migliore, per cui mettiamoci gli sgombri in modo da avere il massimo della visuale e caratteristiche standard anche per il decollo, come la pressione, che poi ci servirà per vedere le differenze con gli altri aerei. Un altro consiglio che vi do è quello nella parte di comando, qui dove c'è questo cappellino, di togliere la spunta su gestici e le comunicazioni radio. La attiveremo poi eventualmente in un secondo momento. Vediamo qualche caratteristica veloce. Abbiamo l'aereo che a vuoto pesa 1740 kg. Il massimo di peso per il decollo è di 2490 kg. Abbiamo a disposizione massimo 188 galloni, in questo caso ho caricato la metà al 50%, quindi siamo a 94 galloni. Ci sono due motori da 300 CV per motore. La velocità, la VX, quindi la rotazione sarà a 90 nodi. Manteremo questa velocità fino a 400 piedi, dopodiché ritrarremo i flaps e la velocità di salita è di 120 nodi. Come per il Cessna 172 abbiamo lo stesso sistema di navigazione che quindi già conosciamo, che è il Garmin G1000. Poi lo vedremo una volta acceso l'aereo. Premendo CTRL 4 ci portiamo nella parte dei comandi e qui vediamo già alcune differenze. Innanzitutto abbiamo la leva del carrello, che non era presente nel Cessna, quindi avremo due posizioni, la DOWN e la UP. Partiremo ovviamente con il carrello in giù. Una volta azionato in su, ci sarà questa spia che si accende, che è quella del transito, quindi ci segnala che il carrello è in movimento e si spegneranno le tre luci verdi. Una volta che invece desidereremo tirarlo giù, quindi quando cominceremo l'avvicinamento verso la pista, lo porteremo in DOWN, si accenderà sempre la spia del transito, quindi carrello in movimento, e si accenderanno le tre spie verdi, che segnaleranno che il carrello è esteso ed è bloccato. Abbiamo il ruotino anteriore e le due ruote posteriori. Nella leva di comando vediamo che ci sono delle modifiche. Innanzitutto abbiamo due leve per i due motori, quindi per il motore sinistro e per il motore di destra. Abbiamo poi due leve in più, che sono le regolazioni del numero dei giri dell'elica, del motore di sinistra e del motore di destra, e abbiamo due regolazioni per la miscela sul motore sempre sinistro e destro. Io ho un joystick che mi permette di azionare insieme, non quindi singolarmente, la leva del motore. Esistono dei joystick che permettono anche la regolazione dei giri e della miscela. In questo caso io farò tutto a mano azionandoli singolarmente con il mouse. Nella parte di sotto abbiamo queste due leve, che sono le capottature del motore sinistro e del motore destro. Queste permettono di regolare la temperatura del motore, per non farla surriscaldare o raffreddare troppo. Entrambi le cose non vanno bene. Abbiamo poi due selezioni per quanto riguarda il carburante, la parte di destra e la parte di sinistra. Vediamo nello specifico, possiamo vedere per esempio anche a motore spento, dove influiscono queste due leve, se riesco a zoomarle. In questo caso apriamo soltanto una leva, c'è la possibilità di chiuderle, aprirle e le situazioni intermedie. In questo caso l'apriamo completamente, andiamo all'esterno e andiamo a vedere la differenza. Vedete che è questa qua. Questa è, ve la faccio vedere da qua, una feritoia che si apre per poter raffreddare il motore che è contenuto dentro questo involucro. In questo caso è appunto aperta, quindi permette un maggiore ricambio d'aria. In questo caso invece è chiusa. Lo andiamo a vedere dall'interno, quindi possiamo di nuovo riportare come chiusura. Andiamo a vedere, ripremiamo CTRL 4, il controllo dell'elica. Abbiamo detto che sono queste due leve blu, sono indipendenti per i due motori, quindi il sinistro e il destro. Possono essere da tutt'avanti a tutt'indietro, con tutte le posizioni intermedie. Vediamo in posizione tutt'avanti che cosa succede. Il movimento in avanti del comando dell'elica fa ruotare entrambe le metà dell'elica attorno ai loro assi, che in questo caso è quest'asse verticale, ve lo faccio vedere da sopra. E quindi attacca l'angolo, il vento, con un angolo minore. Vedete, la palla gira in questo senso, vedete che l'angolo d'attacco è veramente basso, è questo qua. Essendo un angolo d'attacco più piccolo, vuol dire che la resistenza diminuisce e quindi aumenta il numero dei giri. Se torniamo in cabina, se lo dovessimo portare tutto indietro, ovviamente adesso non cambia nulla perché siamo a motore spento, ma l'angolo di attacco aumenta perché questa è l'asse di rotazione dell'elica, questa girerebbe qua e questa salirebbe qua, quindi si porterebbe in questa posizione. Quindi un angolo d'attacco maggiore. L'angolo d'attacco maggiore fa aumentare la resistenza dell'elica e quindi diminuisce anche la velocità di rotazione della stessa. Tornando all'interno, ci riportiamo tutto avanti. Abbiamo detto che le eliche sono a velocità costante, quindi questo vuol dire che una volta che abbiamo stabilito il numero dei giri e le abbiamo impostato con la leva blu, i cambiamenti della pressione del collettore, quindi aprendo o chiudendo la valvola a farfalla, non andranno più a influire sulla velocità di rotazione delle eliche. Quindi una volta che imposto ad esempio 2300 giri, che io dia o meno potenza, questo cambia poco perché rimane sempre a 2300 giri la rotazione. Ovviamente se tiro l'acceleratore fino in fondo, quindi se tolgo completamente potenza, non c'è più potenza disponibile e quindi il numero dei giri delle eliche continua a diminuire. Questo è importante anche quando ovviamente stiamo prendendo quota. Diciamo che il decollo viene fatto a tutto gas, quindi con tutta la manetta avanti, quindi avremo circa 29 pollici di pressione al collettore, che poi è la pressione atmosferica e non può essere ovviamente di più di quella che è la pressione atmosferica. I comandi dell'elica saranno tutti in avanti e produrranno circa 2700 giri al minuto. E questo è il nostro assetto per quanto riguarda il decollo. Una volta che abbiamo raggiunto l'altitudine di manovra sicura, quindi diciamo sopra ai mille piedi, 500-1000 piedi rispetto al terreno, ridurremo la potenza di salita del collettore, quindi lo porteremo a 25 pollici, poi vi faccio vedere una volta a motore acceso dove trovare queste indicazioni, e lasceremo a 2500 giri al minuto la rotazione delle eliche. È abbastanza facile da ricordare, si chiama 25 quadrato proprio per questo, cioè 25 pollici e 2500 giri. E poi una volta in crociera, utilizzeremo invece impostazioni di pressione del collettore a seconda della quota, da 19 a 23 pollici, e se disponibile ovviamente, se no ho tutta manetta, e terremo circa 2300 giri al minuto. Abbiamo parlato di pressione al collettore che viene misurata a valle della valvola a farfalla, quindi in questo caso con la manetta, per esempio, tutta indietro come in questo caso, avremo circa 14 pollici di mercurio, una volta portata tutta avanti, riusciamo ad arrivare ovviamente non fino al massimo della pressione atmosferica, quindi 29-30 pollici. È importante sapere che ovviamente con l'aumentare della quota diminuisce la pressione atmosferica, fondamentalmente diminuisce di un pollice ogni 1000 piedi, quindi a 5000 piedi avremo 25 pollici tendenzialmente, e a 10.000 piedi ne avremo 20. e ovviamente non cambierà il numero dei giri dell'elica. Semplificando, vediamo perché esiste questa leva, non è soltanto una cosa in più da fare. È un po' come il discorso per semplificare con le marce della macchina, quindi ovviamente se siamo in salita avremo una marcia più bassa, se siamo in autostrada possiamo permetterci di inserire la quinta. E questo è lo stesso concetto, quindi in fase di decollo e di atterraggio avremo le regolazioni dell'elica tutta avanti, l'atterraggio perché dobbiamo essere pronti a una eventuale riattaccata, quindi avere immediatamente tutta la potenza disponibile per effettuarla, e lo stesso per il decollo. Una volta che iniziamo la salita e quando addirittura saremo in crociera, ci basterà molta meno spinta in avanti, quindi andremo a sollecitare molto meno il motore, e andremo a consumare molto meno, quindi porteremo fondamentalmente come se mettessimo poi una volta in volo la quinta marcia. Vediamo l'ultima parte che è molto importante per vedere come modificare la potenza. Ipotizziamo di essere a 23 con la nostra pressione al collettore e i 2300 giri. E vogliamo portare, ne lasciamo in linea così, vogliamo portare a 25 e i 2005. Per prima cosa bisogna procedere sulla velocità dell'elica, quindi si porterà a 2005 la velocità dell'elica, e poi si porterà a 25 la pressione al collettore. In caso di diminuzione, prima si interviene sul collettore, quindi lo si porta di nuovo a 23, e poi si porta a 23, la velocità, a 2300, la velocità dell'elica. Come regola, per potervi aiutare nelle fasi concitate di volo, ricordatevi che esiste la regola che l'elica è sopra. Quindi vuol dire che se io sono allineato e devo aumentare sopra, quindi vuol dire che l'elica è sopra, quindi agirò prima sull'elica e poi sul collettore. Lo stesso per la diminuzione. Chi è sopra l'elica, quindi porterò prima il collettore a 23, e poi il numero dei giri dell'elica a 23. Questo è importante perché se volessimo fare il contrario, quindi portassimo in aumento la velocità, aprissimo la valvola, quindi aumentassimo la pressione al collettore, ovviamente l'elica aumenterebbe la sua resistenza all'aria perché deve mantenere il numero dei giri costante e sforzerebbe di molto il motore, quindi provocherebbe dei seri problemi. Ok, ci possiamo portare in vista frontale e cominciare la sequenza per poter accendere il nostro aereo. Ok, utilizzeremo una checklist. Per l'accensione la potete trovare facilmente online. Prima cosa è il freno di parcheggio che si è inserito, in questo caso è inserito. La manetta è al minimo, le eliche sono tutte avanti, la miscela è povera, apriamo le cappottature del motore, tendenzialmente devono essere aperte in fase di accensione, di rullaggio, decollo, salita, chiuse in crociera, in discesa e riaperte dopo l'atterraggio. Diamo corrente, quindi accendiamo la parte dell'avionica, portiamo il selettore del carburante su ON, accendiamo la luce del faro, le luci del carrello sono tre verdi, quindi sono funzionanti, il carrello è esteso e bloccato, possiamo dare miscela ricca, qui premiamo per attivare il pannello, diamo tutto motore, controlliamo con questa parte il GPH, la pressione del carburante, lo possiamo portare anche al max, ok, funziona, possiamo spegnerlo, chiudiamo la manetta, noi riapriamo di mezzo pollice, e possiamo controllare all'elica che siano comunque libere, che non ci sia nessuno, possiamo accendere il motore di sinistro, controlliamo i valori, portiamo a mille più o meno giri qua, diminuiamo un pochino la manetta, mille cento anche va bene, ok, controlliamo l'alternatore, perfetto, e possiamo accendere l'altro motore, controlliamo sempre i valori, questo è il valore che dovete controllare per la temperatura dei motori, quindi deve essere in arco verde, ovviamente in discesa, dovete controllare che non si raffreddi, è tanto pericoloso quanto che si surriscaldi, quindi lo controllate, e eventualmente aprite più o meno le cappottature, controlliamo l'alternatore, perfetto, abbiamo già il trasponder settato, è in stand by, l'altimetro lo schiacciamo B, per sicurezza, quindi lo allineiamo, fuel selector mi chiede di incrociarli, taxi light e la possiamo accendere, e possiamo andare a fare la chiamata radio, quindi ci portiamo sulle chiamate, e chiediamo una partenza verso nord, confermiamo la perfezione, in questo caso controlliamo la direzione, fondamentalmente dobbiamo tornare indietro, per cercare di non passare sopra di loro, affetteremo una virata un pochino più larga, anzi potremmo ignorare il comando, andiamo dritti e ci rinseriamo in questa parte, quindi togliamo il freno a parcheggio, effettuiamo una prova dei freni, ok, 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 facciamo un rullaggio molto veloce, deve essere solo efficace, non reale, vi ricordo che per le sterzate al suolo potete usare il tasto asterisco o il tasto meno sul tastierino, per frenare la parte sinistra del pneumatico o la parte destra, quindi questo vi aiuta per le virate strette, in quanto soltanto agire sulla pedaliera potrebbe non bastare, ovviamente poi più piano andate più avete un angolo di sterzata maggiore, quindi anche quello aiuta, che è un'altra parte, quindi anche se non è un'altra parte, il vento come vedete sarà frontale al decollo avete visto la manica a vento sulla destra adesso mi sa che l'abbiamo già passata ok inseriamo il freno parcheggio e possiamo prepararci per la prova del motore abbiamo la fuel selector on quindi la portiamo su on le pompe sono su off mi dice di tenerle accese soltanto sopra ai 32 gradi in questo caso ne abbiamo 14 quindi non serve la parte degli strumenti è tutta in arco verde tranne la temperatura ma che comunque delle testate comunque aumenterà la miscela è tutta ricca mi dice di portare la manetta 1500 quindi andiamo prima a vedere il primo valore è questo qua e i giri dell'eliche quindi portiamo a 1500 giri dell'eliche e questa è 9 è il valore che vi dicevo prima invece la pressione valle della valvola a farfalla arriviamo se riusciamo intorno al 1500 allora mi chiede di abbassare quindi teniamo la vista un pochino più alta l'elica di sinistra vediamo quanta perdita abbiamo la portiamo fino a zero vedete che perde pochissimo poi si riallinea subito la stessa questa quindi va bene portiamo il motore a 1700 quindi sempre quando parlo di motore intendo sempre i giri dell'eliche ok cerchiamo vediamo i magneti facciamo la prova con i magneti di sinistra abbiamo una perdita di 20 quindi va bene facciamo con quello di destra abbiamo sempre 20 quindi va bene spegniamo gli alternatori quello di sinistra vedete che va a zero quello di destra e va a zero e l'altro compensa poi mi da questo l'abbiamo già fatto right alternator alternator ok possiamo portare il motore a 2200 quindi le regolazioni sono molto leggeri da fare vediamo la miscela se funziona ok funziona anche questa ok controlliamo i flaps li portiamo armati controlliamo che siano libere i piani di volo per impostare cominciamo a impostare 5000 piedi vedete che qui manca il nottolino quello che si può fare è un problema di microsoft e questo è il valore della quota che desideriamo raggiungere e mantenere con l'autopilota possiamo premere ctrl pagina su e portarla a 5000 sarà la nostra prima quota se lo premete in rapida successione ovviamente aumenta di più con ctrl pagina giù invece diminuite il valore abbiamo come selezioniamo come gps anche se non abbiamo nessun piano di volo utilizzeremo l'heading quindi quando ci allineiamo in pista allineeremo l'heading e terremo quella prua ok possiamo richiedere l'autorizzazione di decollo accendiamo le luci siamo autorizzati a una volta allineati impostiamo l'heading per mantenere la prua vi ricordo che basta schiacciare al centro dovrebbe allinearsi se no comunque controllate la quota l'abbiamo inserita andiamo ad accendere anche il trasponder il tubo di pitot mi dice che è spento non ci sono problemi in quanto non abbiamo problemi di ghiaccio in questo momento ok quindi ricapitolando daremo massima potenza a 90 ci sarà la velocità di rotazione poi cercheremo di mantenere i 90 fino ai 400 piedi toglieremo i flaps cercheremo di portare la velocità a 120 nodi e mantenerla in salita e una volta portata la velocità a 120 nodi cominceremo a ridurre i giri delle eliche per portarli a 2500 togliamo il freno parcheggio diamo un motore controlliamo che sia tutto in arco verde cerco di tenere una visuale più stretta così potete vedere gli strumenti la velocità è in aumento siamo a 90 possiamo togliere il carrello cerchiamo di raggiungere i 120 possiamo dare l'autopilota mantenere l'heading e diamo una velocità verticale possiamo lasciare il 1800 vedete che siamo a 2007 quindi dobbiamo diminuire un pochino iniziamo sempre con la parte dell'elica abbiamo una pressione in questo momento di 21 e 2500 e 60 in salita controlliamo sempre la velocità nel caso abbassiamo o alziamo in questo caso possiamo portare a 1600 rato di salita ok, no, non si era inserito l'autopilota perfetto, adesso la sta andando a ricercare a questo punto possiamo portare la velocità a 2300 diamogli una prua a nord così altrimenti ci allontaniamo dalla costa più o meno e aspettiamo di raggiungere i 5000 se vedete che la velocità diminuisce scendiamo con il ratio di salita ok, stiamo arrivando a 5000 controlliamo di non allontanarci troppo dalla costa quindi possiamo ancora virare a sinistra come vedete anche il CHT vedete che si è portato in arco verde quindi la temperatura della testa dei pistoni attendiamo in 5000 così vediamo quanto abbiamo come pressione c'è una leggera differenza tra i due motori probabilmente 72, sì, posso portarlo a 71% anche 70 in modo che siano uguali questo valore vi può aiutare ok, adesso cominceremo il volo rettilineo e aumenteremo la nostra velocità e possiamo andare a vedere quindi che in questo momento abbiamo una pressione di 19 e la velocità di rotazione dell'elica di 2340 se volessimo aumentare ovviamente aumentiamo prima i comandi dell'elica e poi aumenteremo la manetta proviamo a portare a 2005 ed aumentare la pressione quindi possiamo portare l'elica la portiamo a 2005 controlliamo anche il valore sotto percentuale che ci aiuta per l'altro motore quindi 83 è un po' difficile con il mouse comunque allora 83 perché mi da 76 ok controlliamo se siamo sui 2005 a questo punto possiamo anche aumentare la pressione quindi aumentare la manetta vedete che il numero dei giri dell'elica rimane uguale siamo a 23, 24 praticamente quasi in fondo siamo a 25 anzi a 25 non lo raggiungiamo quindi abbiamo 24, 2005 vedete ovviamente che la velocità aumenta perché le eliche girano più velocemente e abbiamo dato più potenza se volessimo tornare indietro quindi a 23 basta diminuire prima il motore lo portiamo a 19 in questo caso e poi riportiamo a 2003 67% quindi ok e siamo intorno ai 2003 fondamentalmente ci sono poi delle tabelle che riassumono il numero ideale dei giri considerate che sotto i 5.000 sono di 2.300 vi do degli altri step che sono a 10.000 chiede una rotazione di 2.500 e a 15.500 di 2.600 vediamo dove siamo posizionati potremmo cercare di possiamo anche tornare indietro direttamente fare un atterraggio sempre sullo stesso aeroporto così vediamo anche il discorso della discesa e faremo un avvicinamento con vola vista possiamo utilizzare il nearest quindi possiamo aiutarci con questo nottolino andiamo nel nearest il più vicino è proprio Brindisi quindi possiamo selezionare il cursore dargli Direct To e attivarlo vedete che l'aereo ha già iniziato la virata avevamo già impostato come sorgente il navegatore con piano di volo quindi in questo caso l'abbiamo attivato e ha tolto l'heading adesso effettuerà la virata e ci porterà in direzione dell'aeroporto in questo caso ci possiamo andare negli aeroporti più vicini lo selezioniamo e richiediamo un atterraggio con arresto completo vediamo cosa ci dice allora circuito traffico sinistra da sempre il traffico a sinistra sulla pista 7 ok se volete vi può aiutare nel pannello dell'assistenza ve lo faccio vedere se vado in no scusate in aiuti alla navigazione possiamo inserire on i rotti punti di via quindi ci darà tutti i vari punti disponibili a video le nastre di ruolaggio le avevamo sempre lasciate on e possiamo dargli on anche il percorso d'atterraggio così vediamo il circuito che ci propone se volete lo possete lasciare disattivato a questo punto iniziamo la nostra discesa quindi sempre con control pagina giù ci portiamo a 2000 a piedi che è la quota del circuito intanto lui si sta avvicinando gli daremo una vertical speed a scendere quindi l'attiviamo possiamo lasciare anche 1000 piedi lasciamo pure che l'aero aumenti la sua velocità ricordatevi che prima di atterrare è sempre obbligatorio portare le eliche ovviamente al massimo numero di giri perché in caso di riattaccata avete le migliori prestazioni per il motore vedete che qua vi fa vedere l'ingresso in circuito in questo caso se lo volessimo seguire dall'inizio possiamo aiutarci ovviamente con l'heading quindi diciamo che potrebbe essere 136 ad occhio gli diamo l'attivazione quindi smettiamo di seguire il diretto verso l'aeroporto vediamo se da qua si vede meglio il circuito praticamente entreremo da qua effettueremo il sottovento il base e il finale ovviamente ricordatevi che dovremo anche estrarre il carrello possiamo anche aumentare un pochino il rato di discesa cerchiamo di non arrivare a razzo sull'aeroporto per cui possiamo cominciare a portare al massimo l'elica e diminuire poi la manetta fondamentalmente siamo già pronti come configurazione ci mancherà da estrarre i flaps e abbassare il carrello ok possiamo abbassare la quota di altri millepiedi quindi con control pagina giù portiamo a mille due in questo caso non abbiamo chiuso le capottature quanto stiamo già scendendo ok la temperatura va bene non ci sono problemi è questa qua il circuito lo propone molto ampio si può anche ovviamente restringere non ci sono problemi possiamo disattivare l'autopilota e entrare nel circuito quando è rosso vuol dire che siete troppo veloci ma in questo caso abbiamo tutto lo spazio per rallentare se vi aiuta con lo spazio avete la vista un pochino più dall'alto vi dà più visibilità all'esterno adesso dovrebbe effettuare la chiamata per l'entrata in circuito e poi dovremmo ricevere l'autorizzazione per l'atterraggio per la pista libera la pista se volete c'è il tasto sul joystick che vi permette di visualizzarla ok possiamo abbassare il flaps di un'attacca siamo già in arco bianco a questo punto il numero dei giri dell'elica non vi interessa più controllate tutto direttamente con la manetta vediamo inizio sottovento vedete che il circuito è molto ampio e si può tranquillamente anche ridurre con questo tipo di aerei ok controlliamo che ovviamente i serbatoi siano on la miscela è tutta avvanti l'elica è tutta avanti possiamo continuare ok abbiamo ricevuto l'autorizzazione per l'atterraggio ci prepariamo a virare per la base date sempre un'occhiata alla velocità indipendentemente adesso che abbiamo questi segnalatori e se non ci fossero comunque dovete sempre controllare la velocità che sia sui 90 possiamo tirare giù il carrello controlliamo le luci che diventino verdi ci sono possiamo dare full flap controllate la velocità che non diminuisca troppo perché dando il flap c'è più portanza cerchiamo di allinearci alla pista e possiamo iniziare la nostra flare aspettiamo che il ruotino caschi da solo applichiamo un pochino di freni ok possiamo ritrarre i flaps possiamo spegnere anche le luci di atterraggio controlliamo la temperatura va bene non ci sono problemi della capottatura comunque possiamo andarlo a chiudere e non ci resta che seguire le indicazioni per il taxi e poi andare a spegnere l'aereo spero che sia stato tutto chiaro soprattutto la spiegazione per quanto riguarda il comando delle eliche eventualmente come andarle a modificare vi ricordo sempre loro devono sempre essere su come regola quindi prima l'elica se vogliamo aumentare e poi la manetta se vogliamo diminuire prima la manetta e poi si scende con l'elica vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati vi aspetto numerosi per il prossimo video grazie e buon volo